buongiorno a tutti io sono ginevra rossi dottorando il storia dell'architettura presso il politecnico di milano e oggi vi parlerò di conventi e monasteri soppressi nella città di mantova in questa rappresentazione della mantova dal 1628 in realtà stampata poi nel 1704 ma che ripropone una più antica mappa disegnata dal famoso ingegnere gabriele bertazzolo possiamo vedere come mantova città circondata dalle acque e inespugnabile fortezza fosse popolata da innumerevoli conventi e monasteri religiosi oratori e nonché chiese parrocchiali ciò nonostante all'inizio del diciottesimo secolo ci racconta il famoso cronista federico amadei attivo proprio durante quel particolare momento storico sembrava che l'inizio del 1700 fosse il secolo in cui si volesse compiacere il dio con la fabbrica di tante chiese nuove riammodernate o restaurate infatti grazie soprattutto all'attività dell'architetto borsotti molte chiese vennero restaurate rinnovate dotate di una nuova facciata o addirittura complica completate o costruite ex novo in particolare i cantieri più famosi furono la costruzione della facciata della cattedrale san pietro e la famosissima costruzione della cupola di sant'andrea opera di filippo juvarra cantiere iniziato nel 1733 inoltre in questo periodo venne completata la cupola della chiesa di san maurizio una chiesa recentemente restaurata e ripeto al pubblico proprio grazie all'attività di italia nostra durante il governo di maria teresa d'austria affiancata dal figlio giuseppe secondo iniziarono anche a mantova le prime soppressioni maria teresa d'austria in un primo momento nel 1769 diede l'ordine di sopprimere tutte le strutture religiose contenenti meno di 12 religiosi a mantova vennero coinvolti durante questo primo decreto imperiale il monastero di san matteo dei girolamini il monastero di san marco dei camaldolesi il monastero di santa maria del gradaro che pur non essendo un monastero con meno di 12 religiosi aveva accumulato così tanti debiti che poteva risanare solamente attraverso la cessione del proprio monastero allo stato così lo stato suggerì di trasferire i monaci olivetani presso il soppresso cristo che soppresso convento di san cristoforo i cui monaci celestini venne trasferiti nei conventi di magenta e di milano nel 1773 in aiuto delle politiche statali venne anche il papa il quale il 21 luglio del 1773 decretò la soppressione del collegio dell'ordine dei gesuiti con la conseguente soppressione di tutte le loro strutture nel territorio italiano e non in particolare nel nostro caso del collegio gesuitico e del pertinente palazzo detto dello studio in quell'occasione si decise di sottrarre il convento degli agostiniani di sant'agnese i quali vennero trasferiti proprio nel nel disponibile collegio gesuitico in cambio del loro convento che sarebbe divenuta la nuova sede dell'orfanotrofio generale della città infatti in questo particolare momento storico la volontà dello stato era quella di sostituirsi negli ambiti dell'assistenza cittadina e dell'educazione delle nuove classi sociali ai religiosi che sino a quel momento si erano occupati di questi particolari importanti aspetti della vita pubblica fu così che appunto se santa maria del gradaro venne ceduta al demanio san cristoforo e il collegio gesuitico vennero riconvertiti i nuovi i nuovi diciamo monasteri e conventi religiosi oltre all'orfanotrofio collocato in sant'agnese coinvolgendo anche la parte relativa al più luogo del soccorso il collegio gesuitico la parte vicina al collegio gesuitico sia il palazzo dello studio venne ceduto in parte al reggio ginnasio quindi non cambiò granché la propria funzione e in parte venne ceduto alla vicina accademia di scienze lettere e belle arti della città qui vi si ricavò la nuova biblioteca pubblica il museo statuario e il museo di scienze naturali qui vediamo i progetti eseguiti dall'architetto pozzo la facciata dell'orfanotrofio generale che tutt'oggi noi possiamo ammirare il rilievo del ginnasio appunto riadibito a scuola pubblica e a sede delle attività accademiche e parte del dell'area del soppresso convento di san marco in particolare quella pertinente all'oratorio della scopa segreta soppresso nel 1780 proprio per questo motivo venne riadattato a nuova sede dell'orto botanico con giuseppe secondo la il fenomeno delle soppressioni subì un'accelerazione quindi oltre i già detti conventi soppressi vennero soppressi tutti i conventi pertinenti all'ordine delle delle clarisse in particolare quegli orti vennero coinvolti quegli ordini femminili contemplativi che secondo il monarca non davano alcun contributo concreto alla collettività e alla città si liberarono così i conventi di santa maria maddalena di san giuseppe del carmelino di santa lucia e di santa maria del carmine di santa elisabetta il convento delle cappuccine e oltre a quelli di san sebastiano di san francesco e parte di quello di san domenico occupato dalla sede dell'inquisizione questi conventi in particolare quelli legati appunto agli ordini religiosi femminili contemplativi vennero proprio scelti quali nuove sedi di funzioni pubbliche direttamente volute amministrate dal governo asburgico in particolare qui vedete segnati con la stella dell'esercito quelli ceduti al demanio altra importante funzione che caratterizzava la città di mantova proprio per in quanto era diciamo la fortezza lombarda del territorio sburgico e doveva quindi necessariamente contenere grandi quantità di soldati quindi molti vennero riconvertiti in caserme ma anche di spazi accessori come magazzini arsenali e deposito di polveri ma oltre a questi che coinvolsero il piccolo convento di santa antonio santa maria del gradaro santa paola il convento delle cappuccine che venne riconvertito in ospedale militare il san francesco in ospedale scusate in arsenale mentre il lungo cantiere che caratterizzò il convento di sant'agnese fece sì che l'intero complesso venne ceduto anch'esso al demanio optando per la suddivisione per genere all'interno di due strutture ricavate proprio tramite le soppressioni ossia l'orfanotrofio maschile presso santa lucia l'orfanotrofio femminile presso santa maria maddalena venne valutata la sede di sant' orso la quale luogo per ospitare l'ospedale civile abbiamo per questo i rilievi fatti sempre dall'architetto pozzo e all'interno di questa rifunzionalizzazione degli spazi si apri anche la questione dell'ospedale grande ossia l'ospedale situato in san leonardo ritenuto inadeguato diciamo alle nuove norme igienico sanitarie tipiche dell'epoca ammalorato e per questo venne valutata la ricollocazione prima in san sebastiano ma progetto poi che non ebbe seguito qui vediamo i progetti sempre eseguiti dall'architetto pozzo la rifunzionalizzazione dell'ospedale grande in san leonardo la progettazione dell'orfanotrofio femminile presso il convento di santa maria maddalena la dogana presso il soppresso convento di santa maria del carmine il progetto per l'orfanotrofio maschile presso santa lucia e il progetto per l'ospedale presso san sebastiano e i rilievi di santa maria del gradaro da adibire a sede di magazzini la campagna di soppressioni di conventi e monasteri nonché di chiese parrocchiali subì un'ulteriore diciamo un ulteriore accelerazione sotto il nuovo governo di napoleone bonaparte siamo dunque nell'epoca della repubblica cisalpina e possiamo dire che tutto ciò che era rimasto attivo sino a quel momento venne soppresso dunque i conventi femminili di san vincenzo di san giovanni i collegi dei filippini di san tommaso il convento dei cappuccini e anche il convento di san cristoforo sino da loro occupato dai dagli olivetani del provenienti da santa maria del gradaro oltre che gli agostiniani del collegio gesuitico la città di mantova venne riconvertita praticamente a fortezza militare dunque molte molti di questi conventi religiosi soppressi vennero adibiti a magazzini a caserme e a luoghi legati comunque la funzione di difesa del territorio nonché della città e ma grazie a questa rifunzionalizzazione degli spazi molti di questi si sono conservati e quindi vengono risparmiati dalle demolizioni che invece contraddistinsero il destino di molti altri conventi e monasteri religiosi presenti nelle altre città oggi come potete vedere molti di questi edifici sopravvivono nel tessuto fitto medievale della città di mantova nascosti dietro grandi facciate neoclassiche o grandi moli abbandonate di cui si è quasi impercettibilmente persa la memoria qui potete vedere in verde quelle diciamo aperte al pubblico quelle ancora esistenti chiuse al pubblico contraddistinte dalla croce rossa con la croce nera sono state segnate quelle in stato di abbandono quelle con la croce gialla demolite o parzialmente demolite ebbene dietro questi immense moli edilizie oggi troviamo nel convento delle cappuccine l'ex ospedale militare dell'epoca giuseppina case popolari gestite da Aster dietro la facciata dell'ex ospedale dell'ex ospedale grande di san leonardo il comando di polizia nel ex orfanotrofia generale in sant'agnese il museo diocesano gonzaga nel palazzo dello studio la biblioteca teresiana nell'ex convento delle carmelitane l'agenzia la sede dell'agenzia delle entrate nell'ex monastero di san vincenzo un istituto comprensivo così come per l'istituto santa paola l'istituto il convento di santa caterina da siena che ospita il redentore e il convento del carmelino che ospita geometri e le magistrali gli olivetani che hanno mantenuto il loro ruolo di sede di un ordine religioso il carmelino in parte abbandonato in parte occupato da case popolari che non consentono l'accesso però agli spazi dell'ex convento la sede del conservatorio di musica lucio campiani ricavato all'interno dell'ex convento di delle servite di san barnaba il convento vero e proprio dei serviti di san barnaba in parte visitabile in parte utilizzato come sede del del carcere di mantua il convento diciamo annesso alla chiesa di san maurizio sede del comando dei carabinieri ed infine il convento di santa maria maddalena oggi sede del Politecnico di milano polo regionale di mantua e qui concludo con alcune immagini dei conventi religiosi e delle condizioni in cui molti di questi perversano e vi ringrazio per l'attenzione Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie mille! Grazie a tutti.